Buonasera a tutti e benvenuti da On Air News, apriamo ancora con la pagina del terremoto, la notizia del giorno riguarda i controlli disposti dalla procura di macerata sui pensili crollati nelle casette di muccia a seguito della scossa di magnitudo 4.6 dell'alba di martedì scorso, verifiche anche sul cedimento di un moretto di contenimento sempre in un'area delle SAE, ad effettuarle la Guardia di Finanza. I controlli rientrano nel fascicolo già aperto dalla magistratura sul reclutamento e sulle modalità di lavoro per la realizzazione delle casette. Il capo della Protezione Civile Regionale delle Marche, Davide Piccinini, aveva parlato ieri della necessità di rivedere il fissaggio delle staffe dei pensili, adatto ad una situazione di normalità, ma non alle sollecitazioni dal movimento legato ad una scossa sismica. Di quella portata, da un punto di vista pratico, fa saltare la staffa di fissaggio a un'operazione che richiede una forza spaventosa, forza che in effetti nelle aree epicentrali il sisma conferisce a quel tipo di massa, aveva detto, sottolineando la necessità di rivedere le circa 3.000 SAE ordinate. Quanto alle scosse si è registrato un evento di magnitudo 3.6, sempre con epicentro a muccia alle 15.24 del pomeriggio, dopo una mattinata che era stata abbastanza tranquilla. Sull'argomento comunque Manolita Scocca ha fatto oggi il punto della situazione con l'assessore regionale Angelo Sciapichetti. Sentiamo. Ci sono state ulteriori famiglie sfollate, altre sette a Pieve Torina, una a Val Fornace. Ci sono stati danni alle cose, un acquedotto a Pieve Torina è saltato. Insomma, i danni però più gravi sono quelli di natura psicologica, perché mentre i cittadini stavano ritornando, non dico alla normalità perché in quel territorio è impossibile, in questa fase, ma stavano faticosamente pensando alla ricostruzione e alla ripartenza. Questa scorsa ci ha fatto fare un passo indietro, però dobbiamo guardare avanti con fiducia, andare avanti secondo i programmi stabiliti, andare avanti con la ricostruzione e andare avanti sia con la ricostruzione leggera che con quella pesante. Per quanto riguarda le SAE, guardate, io non voglio fare polemica, ma noi dobbiamo tener conto che in tre SAE a Pieve Torina sono ceduti i pensili e in tre SAE a Muccia sono ceduti. Quindi parliamo totalmente di 6 SAE. Di fronte a una scorsa 4.6 nel cuore dell'epicentro, io penso che anche in un bunker in cemento armato poteva succedere qualcosa. Sono ceduti i pensili in 6 SAE, quei pensili non erano stati attaccati nel modo giusto e chiaro, perché sennò avrebbero resistito come in tutte le altre. Però io credo che enfatizzare più di tanto un fatto che non doveva accadere, è accaduto, va strigmatizzato, però dobbiamo anche dire che la stragrande maggioranza dei cittadini che sono nelle SAE ci stanno bene, dicono che sono confortevoli e anche sicuri. Anzi, quei pochi abitanti che ancora risiedono in un'abitazione in cemento in quelle zone ci chiedono di andare nelle SAE perché si sentono più sicuri. Quindi le SAE sono sicure, hanno risposto bene, c'è stato questo neo, vanno accertate le responsabilità di chi ha montato le pensili e non l'hanno fatta nel modo giusto. Si è già intervenuti per riparare e dobbiamo però guardare ai problemi veri che sono quelli della ricostruzione, della ripartenza e poi le polemiche. Credo che in questo momento non abbiamo bisogno di polemiche. Intanto domani è stata annunciata la visita del premier di missionario Paolo Gentiloni a Belforte e Muccia. Il presidente del Consiglio dovrebbe arrivare attorno alle 12. Da programma non dovrebbe recarsi a Camerino anche se il sindaco di quella città, Gianluca Pasqui, aveva chiesto un incontro. E due sciacalli sono stati sorpresi in una casa inagibile di Tolentino in Viale Vittorio Veneto. I carabinieri, avvertiti da una vicina, hanno sorpresi due ladri in camera da letto e per loro sono scattate le denunce. Cambiamo argomento. 18 anni di carcere per l'omicidio del veterinario Olindo Pinciaroli, 53enne originario di Urbisaglia ma residente a Montelupone, avvenuto il 21 maggio 2017 durante un viaggio sull'ambulanza veterinaria diretta a Polverigi verso un maneggio. La condanna con rito abbreviato è stata emessa dal GUP di Ancona, Paola Moscaroli, che ha accolto le richieste del PM nei confronti del fantino, 24enne a Scolano, Valerio Andreucci, collaboratore della vittima, giudicato responsabile di omicidio non premeditato, detenzione illegale di armi, simulazione di reato e calunnia. All'uscita dell'aula, il giovane ha abbracciato la madre per l'accusa e il movente del delitto, sarebbe da ricondurre ad un debito di circa 3.000 euro. Andreucci non avrebbe voluto restituire al datore di lavoro il denaro con cui poi aveva acquistato cocaina. La difesa valuterà il ricorso in appello. È ancora ricoverato all'ospedale di San Benedetto in gravi condizioni Marco Mengoni, il camionista 45enne di Monte Cassiano, rimasto coinvolto ieri nell'incidente stradale che ha provocato la morte di due motociclisti toscani lungo la corsia nord dell'autostrada a 14 all'altezza di Campofilone, un drammatico tamponamento a catena che ha provocato il ferimento, comunque non grave, anche di un terzo centauro. La Lega del Filodoro produce valore sociale. Presentati in Regione, i risultati di un'analisi. Sentiamo. Per ogni euro investito, il valore del ritorno sociale annuo medio, ossia il cambiamento generato dalla Lega del Filodoro, è quasi il doppio, 1,93 euro. In termini economici, con riferimento al triennio 2014-2016, di 17,5 milioni di euro annui in valore sociale creato, registrando un incremento costante del 15%. Sono questi i risultati emersi per il triennio 2014-2016 dall'indagine la valutazione economica degli impatti sociali della Lega del Filodoro, un'analisi SROI, presentata in Regione. Sì, è un progetto per il quale stiamo lavorando da diverso tempo, perché questo sviluppo della Lega del Filodoro negli ultimi anni, l'impiego di tante risorse, sia pubbliche che private, ci ha portato a dire ma vogliamo anche misurare quanto è importante la presenza della Lega del Filodoro, non solo per gli ospiti, per le famiglie, ma anche per il personale, per i volontari e sicuramente per tutto il territorio. Quindi, attraverso una modalità diciamo scientifica consolidata, è stata fatta questa misurazione che porta a dei valori significativi. in riassunto è che per ogni euro che viene dato alla Lega del Filodoro, la Lega del Filodoro ne restituisce due al territorio. Quindi è un qualcosa di importante, è un qualcosa che peraltro noi adesso porteremo avanti anche inserendo in questo progetto il centro di Lesmo su Lombardia e il centro di Molfetta in Puglia e quindi potremo fare anche un benchmarking interno. Inoltre, credo che sia anche un modo doveroso di ritornare a tutti coloro che ci sostengono, quindi dall'ente pubblico fino al privato, alle aziende, alle fondazioni, diciamo con dei numeri, quello che realmente si è fatto e quali sono gli obiettivi per i quali noi continuiamo a chiedere di essere sostenuti. La Lega del Filodoro è una realtà di grande importanza per la Regione sia per l'attività svolta che mette al centro le persone sordoceche e le loro famiglie sia per lo sviluppo del territorio. La presentazione sulla valutazione economica del suo impatto sociale ne fa anche un ente innovatore che sa guardare al futuro, ha affermato Luca Ceriscioni, presidente della Regione Marche. Siamo nel pire di un dibattito del rapporto tra pubblico e privato. Io credo che il rapporto tra Regione e Lega del Filodoro rappresenti il meglio di come si possano mettere insieme realtà che senza fine di lucro sviluppano servizi che non erano presenti con quel livello, con quella qualità che negli anni sono stati capaci di sviluppare. Realizzano oggi strutture, certo con contributo anche pubblico, ma con una velocità, con una qualità, con dei risultati molto importanti. È un connubio fra, chiamiamo l'ente, Regione, che deve sviluppare servizi che riguardano la salute per i propri cittadini, in questo caso essendo un'eccellenza anche per chi viene da fuori, ed è per persone che si mettono in moto dietro i problemi, anticipando qualche volta e quindi sperimentando strade nuove rispetto a quelle che erano presenti nei servizi e diventano un elemento essenziale integrato con l'attività sanitaria della Regione, in grado di dare risposte di grande qualità e che diventa ricchezza per il territorio. Nel 2016 la Lega del Filodoro ha generato un valore sociale di circa un milione di euro per le famiglie, altri 1,2 milioni di euro di valore sociale sono stati creati sul fronte del personale e dei volontari altamente specializzati. Va segnalato che il triennio esaminato è un momento particolare per la Lega del Filodoro che aveva avviato la costruzione del suo nuovo centro nazionale, il primo lotto inaugurato a dicembre 2017 mentre il cantiere del secondo è appena partito. Pubblicato sul sito di Aerdorica nella sezione Gare e Appalti l'annuncio volta ad informare tutti i soggetti eventualmente interessati della possibilità di effettuare una due diligence sui dati societari previa sottoscrizione di un patto di riservatezza e di vieto di divulgazione delle informazioni. In una nota la Regione Marche tramite Aerdorica S.P.A. esprime ferma volontà di individuare un socio privato di maggioranza per la società gestore dell'aeroporto di Falconara per garantire secondo criteri imprenditoriali di natura privatistica lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale e di prioritaria importanza per l'intero territorio marchigiano. Il gruppo consigliare regionale del Movimento 5 Stelle ha presentato in una conferenza stampa il progetto Facciamo Scuola. Sentiamo di cosa si tratta in questa intervista. È un progetto nazionale tutti i consiglieri regionali di tutte le regioni dove c'è il Movimento 5 Stelle si tagliano lo stipendio i soldi accumulati verranno devoluti a questo progetto Facciamo Scuola. Nelle Marche il progetto nazionale è un milione di euro nelle Marche 100.000 euro noi consiglieri regionali abbiamo messo da parte i nostri soldi dal taglio degli stipendi 100.000 euro sono andati ad Arquata del Tronto per il terremoto 100.000 andranno a progetti per le scuole quindi le scuole già abbiamo mandato il bando faranno un loro progetto sulla sicurezza sul materiale scolastico sulle barriere architettoniche su quello che in effetti poi lo Stato nazionale non dà alle scuole che sono sempre dimenticate noi esamineremo questi progetti abbiamo 100.000 euro potrebbero essere 100 progetti da 1.000 euro o 10 progetti da 10.000 euro quindi ecco c'è un range e questi progetti verranno valutati sulla piattaforma Rosso da tutti gli iscritti delle Marche già abbiamo avuto notevoli riscontri positivi sia da cittadini e genitori delle scuole sia da dirigenti scolastici e siamo alla pagina sportiva capriamo con il calcio Francesco Furnò della sezione di Roma 1 è l'arbitro designato per dirigere Foggia Ascoli anticipo della 35esima giornata del campionato di Serie B in programma domani alle 19 lo stadio Zaccheria di Foggia gli assistenti sono Dario Cecconi di Empoli e Luigi Lanotte di Barletta Mister Cosmi ha convocato 25 giocatori ricordiamo che sono indisponibili Bianchi, Carpani, Favilli e Pinto Volley la Lube ha guadagnato l'accesso alle Final Four di Champions League che si disputeranno a Kazan in Russia i campioni d'Italia in carica hanno vinto a Trento per 3 a 2 ma il match è sostanzialmente terminato dopo i primi due set vinti che hanno determinato matematicamente il passaggio del turno poi opportunamente coach Giampaolo Medea ha dato spazio alle seconde linee con Zuccoschi Cassadei Milan e Covar in campo che sono comunque riusciti per quanto potesse contare a portare a casa il successo ora tutte le attenzioni sono concentrate su gara 4 di semifinale Scudetto domenica a Modena con la Lube lo ricordo in vantaggio nella serie per 2 a 1 ciclismo il secondo trofeo città di Senigallia centri il bersaglio del successo e rinvia la prossima edizione sempre a beneficio dei giovanissimi ce ne parla Maurizio Minucci coordinatore della manifestazione tecnicamente allestita dal team cicli cingolani bike shop il mare è stato un po' mosso in certi momenti in termini organizzativi adesso è calmo Maurizio Minucci conto consuntivo al di là dello scherzo soddisfacente si si è stata come hai detto te è stata dura a livello organizzativo però adesso siamo felici e soddisfatti è andato tutto benissimo e per questo devo ringraziare comunque sia l'amministrazione comunale di Senigallia che ci ha dato un enorme contributo i vigili urbani di Senigallia e comunque tutto l'entourage senigallese che ci ha sopportato ma del resto noi dobbiamo fare questo lavoro qui portare il ciclismo dove la gente ci vede perché se lo portiamo solo nelle zone industriali purtroppo il ciclismo non lo vede nessuno e questo secondo me era un palcoscenico importante dobbiamo ringraziare il Velo Club i cicli Cingolani la Cingolani Bike Shop che sono sempre in prima linea su queste manifestazioni soprattutto i giovanili è vero che loro comunque sia è il pane di loro però è anche vero che se non ci fossero loro il ciclismo non ci fossero gente come Cingolani il ciclismo non campa molto non siamo che in primavera si andrà avanti fino a ottobre che abbiamo in programma allora in programma c'è tanta tanta canna al fuoco arriviamo alla fine l'ultima perla dovrebbe essere qui ciclocrossa Senigallia si l'ultima perla dovrebbe essere il ciclocrossa Senigallia che dovrebbe essere una tappa dell'importante Giro d'Italia organizzata dalla Romano Scotti di Roma in collaborazione con le società locali con l'amministrazione comunale di Senigallia è un evento molto importante che porterà nel comune circa 5-600 atleti da tutta Italia e quindi altre persone che affiancheranno gli atleti quindi 1-500 persone che saranno qui a Senigallia nel mese di ottobre grande grosse grande immagine grande grosse grande immagine per Senigallia che comunque sia ultimamente come dicevo l'altra volta sta sempre più vicino a queste manifestazioni e sicuramente alla fine gli tornerà utile anche a loro e ricordiamo gli approfondimenti giovedì ciclismo TVRS canale 11 alle 22.30 venerdì sulle strade TVRS Marche canale 111 alle 20.15 aggiornamenti sulla pagina Facebook TVRS ciclismo e lo ricordo sul nostro sito www.utvrs.it con questo è tutto grazie per la cortesa attenzione appuntamento a domani